Ciao, sono Selva, vengo da Vittorio Veneto e sono una cantante R&B. Ho origini marocchine e questo ha influito molto in generale nel mio percorso ma anche nella decisione, diciamo così, del genere o comunque delle sonorità delle mie canzoni. E questo si sente molto a partire dai suoni fino ad arrivare nella mia ultima canzone Paranoie, ad esserci proprio una parte in arabo, proprio per questo motivo, perché vorrei che fosse presente, diciamo così, la mia cultura nella mia musica. Faccio musica perché non c'è una vera e propria risposta a questo, nel senso che è un modo per sentirmi libera, per esprimermi e... Non riuscirei a farne a meno. E personalmente la mia cultura non mi ha mai pesata, nel senso che anzi trovo che sia un bagaglio in più, una cultura in più, una conoscenza in più. E personalmente non ho mai riscontrato problemi perché comunque essendo nata qui sono perfettamente integrata. Forse l'unica cosa è magari un po' il senso di divisione tra due culture che mi appartengono ma che sono ben distinte e ben differenti. E che è forse un concetto che possono capire solo le persone appunto nate in un luogo ma con origini differenti. Forse quello che vorrei fare un po' con la musica è proprio questo, integrare quelle due parti in maniera da far sì che siano una cosa sola e quella cosa sola sarei io. Per molti anni mi sono chiesta come si facesse a comporre musica, a creare musica. Me lo sono chiesta per tanto tempo perché comunque ho passato tantissimi anni a cantare canzoni di altre e a cercare di farle mie, se così si può dire. Finché ho capito che in realtà meno logica ci metti meglio è, nel senso bisogna lasciarsi coinvolgere, lasciare che il flusso creativo esca in maniera molto spontanea. E quindi non so neanche, non è stata una cosa studiata o comunque programmata, la scrittura è stata una cosa spontanea, ecco. Io in quanto figlia di emigrati percepisco molto il razzismo, non su di me direttamente perché appunto non ho mai dato modo alle persone di essere razziste nei miei confronti. Però lo percepisco molto, penso sia, alla fine penso sia stupido, cioè il razzismo di per sé, perché se una persona è aperta di mente è sempre pronta ad imparare, a viaggiare, a toccare con mano tutto ciò che non conosce e il razzismo non esiste. Io sono ancora all'inizio, nel senso che ho appena cominciato questo percorso, ho appena capito qual è la mia direzione. E ho fatto uscire due singoli, il primo Colorful in inglese e il secondo è Paranoia. Sto già lavorando al prossimo e ovviamente il mio obiettivo è quello di un giorno vivere di musica. E realizzarli. Io sono Selva, trovate la mia musica su tutte le piattaforme streaming e su YouTube. Baci! Buon anno! Buon anno!